Benvenuto Sergio Magagna. Lei in questo momento è uno dei maggiori rappresentanti di una tradizione americana molto antica, che è quella messicana dei Mexica e dei Toltechi. Una delle cose che la maggior parte delle persone non sanno è che Toltechi e Mexica hanno a loro volta un fantastico calendario che è antico quanto quello Maya, ma parecchio diverso da esso. Tutti oggi parlano del calendario Maya del 2012 e quindi lei è particolarmente benvenuto perché vogliamo capire che cosa lei ha da dire in proposito. Tutti ne parlano, qual è invece l'opinione della sua tradizione su questo argomento? Buongiorno a tutti. Bene, su questo tema si dicono tantissime cose. In realtà, il calendario Maya, come quello Mexica, che appartiene alla tradizione asteca, che a sua volta è un rettaggio della Totequacana e della Tolteca, deriva da calendari precedenti, come il mixteco sapoteco di culture, cioè che erano stabilite in Messico, nella zona del Pacifico, prima di esse. Dunque, entrambi i calendari Maya e Mexica sono un rettaggio di quel calendario ancestrale e presentano cicli simili. Entrambi poi adattarono, logicamente, i simboli del loro calendario agli animali del loro ambiente, ma sono molto affini. Ci sono però differenze nel calcolo dei cicli grandi. Si parla tanto della fine del mondo, ma questo non è quello che dicono in Maya. In realtà, per loro, termina semplicemente il ciclo più grande. Che, ora non so di quanto sia, non sono uno specialista del calendario Maya, ma deve essere intorno a 5.000 erotti anni. I calendari di forma circolare, però, quando c'è la fine del calendario, non è la fine di tutto. Sono calendari ciclici, per cui significa che comincia il ciclo seguente. Però, siccome la cosa non è specificata, chi non sa e chi non ha mai parlato con i veri guardiani della tradizione, pensa che sia la fine e, invece, è la fine di un ciclo. Ora, parlando del nostro calendario, il calendario Mexica, se cerchiamo su internet calendario Maya, in molti siti, quella che si vede è la pietra del sole. L'informazione è davvero un disastro nel mondo. La pietra del sole è il nostro calendario. E quindi, il problema, già, è a livello delle immagini, figuriamoci poi nel contenuto. L'immagine conosciutissima del nostro calendario è dunque la grande pietra del sole, dove vedete il sole con la lingua di fuori, che significa la giustizia solare. E rappresenta un vero atto di bravura, perché mentre il calendario Maya è diviso in molti cicli diversi, nel nostro calendario, il calendario Mexica, tutti i cicli sono assemblati in uno solo. Tutto il meccanismo dell'universo è, cioè, raccolto in un solo simbolo. E ora parliamo dei cicli. Nel nostro calendario, i cicli del sole sono la cosa più importante. Le misurazioni vanno da cicli solari brevi, come la rotazione del sole su se stesso, ad altri un po' più lunghi, come quello della Terra, intorno al sole, nei quali troviamo cose comuni, come i solstizi ed equinozi. Fino a cicli molto grandi, come la rivoluzione del nostro sistema solare, o meglio, della nostra stella, intorno alle Pleiadi. Tutto il nostro calendario si fonda sul ricorrere di quattro movimenti. E se la rivoluzione del nostro sole intorno alle Pleiadi dura 26.500 anni, e lo dividiamo per quattro, otteniamo 6.625. Questo periodo è chiamato sole. Ora, tutta questa faccenda del 2012 ha a che fare con la fine di uno di questi periodi, o soli, e nient'altro. È una suddivisione della rivoluzione del nostro sole intorno al sole centrale delle Pleiadi. Ed è qui che c'è tutta la disinformazione. Che si tratti della fine del mondo non si è mai visto da nessuna parte, dato che i guardiani non l'hanno mai detto, i guardiani della tradizione, ma gli altri ci hanno ricamato sopra le loro interpretazioni. Non funziona come per i nostri anni, dove al 31 dicembre siamo nel 2010 e il primo gennaio sia nel 2011. Diversamente dal nostro calendario, questo rispetta alla natura. L'alba è una transizione fra il buio e la luce. C'è un assestamento, una transizione, e quindi prima che un nuovo sole entri, c'è un'analoga transizione, dove i due soli sono copresenti ed è precisamente il momento che stiamo vivendo. Il 2012 è solo una delle date della transizione e la gente, la cultura popolare, non ha idea del resto. Il sesto sole è entrato nel regno del quinto già nel 1991, ed è lì che è cominciata la transizione. I due soli avranno pari potere il famoso 21 dicembre 2012. Ma questa data non segna né l'entrata del sesto sole nella fine del mondo, segna solo la parità di potere dei due. Poi, tra il 2012 e il 2021, il quinto sole uscirà di scena, e questa è la parte più complessa di questo movimento. E il sesto sole incomincerà a regnare da solo soltanto nel 2021. Ora, qui accadono diverse cose, perché la fine di un ciclo corrisponde sempre a grandi cambiamenti. Nella tradizione mexica, il sole che se ne va era retto dal simbolo del cane, It's Quintly in Nahuatl. E un sole retto dal cane si ripropone ogni centomila erotti anni. Ha la caratteristica che è l'uomo a dettare le leggi dell'uomo, ed è la fase che abbiamo vissuto. Ma ora, passiamo al simbolo che segue, Ossomachtli, la scimmia. E il cambio, praticamente, è immenso, perché è la natura che dettallegge sulla terra e sull'uomo, ed è quello che sta cominciando. Il quinto sole è chiamato Tekpatil Tonnatiu, cioè il sole della giustizia, ed è questo che vuol dire la lingua penzoloni del sole. Ma quella lingua non è una lingua, esattamente. È il pugnale della giustizia. Ossia, tutto quello che abbiamo creato, dallo stato di veglia, dal tonal, ha una controparte che quasi nessuno vuol vedere, lo stato di sonno, il Nahuatl. È molto facile ricusare ciò che creiamo dallo stato di sonno. Di quello che facciamo da svegli, tutti si assumono la loro responsabilità, posto che se la assumano. Ma qui si tratta di assumersi la responsabilità anche di ciò che si fa dallo stato di sonno, ciò che creiamo come collettivo. Nell'uscita di scena dal quinto sole, ciò che otteniamo, per giustizia e non per castigo, è esattamente ciò che abbiamo creato. In questa transizione, ma anche secondo questa tradizione, l'unica realtà è il movimento. Quindi, in particolare in questo periodo, l'universo è in movimento. E negare questo movimento, perché vogliamo restare ancorati alle nostre vecchie strutture, che cosa provoca? Provoca la nostra distruzione. Si tratta di una decisione completamente personale. Per chi decide di abbandonare le vecchie strutture e fluire con il cambiamento universale fino a trasformarsi, allora questo periodo sarà molto favorevole. Le quattro forze che sostengono l'universo, che ci sostengono, quelli che noi chiamiamo Texatlpoca, uno dei quali è il famoso Quetzalcoatl, sono rappresentate nel calendario a livello spirituale, astronomico e umano. A livello astronomico, per esempio, il Texatlpoca nero, è rappresentato dal centro della galassia, dalla notte, da tutto ciò che è nel cosmo e oscurità. Il Texatlpoca rosso è rappresentato dalla Via Lattea. Il Texatlpoca blu, altrimenti detto Huitzilopochtli, è rappresentato dal sole, dell'alba, da Mercurio, da Marte, e il Texatlpoca bianco, il Quetzalcoatl, del cui ritorno come entità o coscienza si parla tanto, è rappresentato dal sole a mezzogiorno e dal pianeta Venere. Nel 2012 ci sarà un allineamento, perché di solito questi quattro Texatlpoca o forze sono rappresentati in un quadrato che sostiene l'universo. Nell'allineamento di questi quattro segni, il quadrato si disfa per creare una retta ed è quella che chiamiamo scomparsa del tempo. Nei momenti intorno all'allineamento di questi corpi, in una retta invece che in un quadrato, naturalmente allora le cose si accelerano, diventano molto più veloci. quelle belle come quelle brutte, viviamo in un mondo duale, in cui la distruzione e la luce si manifestano entrambe più rapidamente. Il che rende questo tempo molto interessante, che può condurci a cataclismi personali oppure alla luce. È molto più in fretta, ma è una decisione personale, i giochi non sono fatti. Ciò che decidi di vivere lo otterrai. Questo è il tempo in cui noi ci troviamo ora. La transizione fra due grandi periodi è semplicemente l'occasione di un cambio di coscienza. In questo periodo, vediamo dei cambiamenti drammatici a livello planetario, ambientale. E tutto questo è sotto gli occhi di tutti. ed è precisamente questo che fa sì che la gente in questo momento abbia paura. Pensano che la Madre Terra non sopravviverà. Lei cosa ne pensa? Bene, questa è una domanda molto interessante. Perché quando qualcuno dice che la Terra non sopravviverà, qualsiasi guardiano delle tradizioni ameridiane si fa una gran risata. È veramente l'arroganza umana qui che ci fa credere di poter pugnalare Dio. Non abbiamo il potere di uccidere la Madre Terra. Perché basta che lei si dia una scrollatina e noi scompariamo tutti. Bisogna capire che la Madre Terra, come il Sole, è anch'essi in un processo di trasformazione, di cambiamento, che a livello universale si presenta come un'onda energetica ogni 6.625 anni. La gente è meno spaventata da ciò che accade che non dalla quantità di informazioni. E ogni transizione rimanda all'immagine di una crisi. Se prendiamo il calendario a steco e esaminiamo i simboli, tra i vari simboli di ogni Sole ci sono degli artigli. E questi artigli significano distruzione. Distruzione del modello di vita precedente. E distruzione che viviamo ogni volta che c'è una transizione del genere. Ma la distruzione è sempre anche creazione di qualcosa di nuovo ed è la prima cosa che occorre cominciare a vedere. Per esempio, per i guardiani di questa tradizione, il quinto Sole, come ho detto, il Tepactlito Natyu, il Sole della Giustizia, è raccontato nella cronica tradizionale, traducendolo letteralmente dal Nahuatl, dice che è il Sole della Giustizia che terminerà con i terremoti e tutti periranno. Questa è un'affermazione molto intensa, però non va presa letteralmente. In realtà, terremoto, qui significa sì anche terremoto fisico, lo vediamo bene, ed è l'inizio del periodo più complesso, più critico del quinto Sole. È qualcosa di cui non si trova eco in nessun altro posto, ma che è molto presente nelle croniche dell'Antico Messico. Il quinto Sole esce di scena nel 2021 e il 2012 è il punto in cui il quinto e il sesto Sole esercitano pari potere e la sua uscita di scena sarà molto più intensa di ciò che abbiamo visto fin qui, quindi occorre prepararsi. Terremoto, però, significa anche che crolleranno moltissime strutture interiori, cosa che farà un gran bene alla Terra. demoliremo tutte quelle strutture religiose, politiche, economiche, eccetera, che stanno causando tanto sofferenza. E quindi tutti moriremo, nel senso che tutti cambieremo, non nel senso fisico. Anche se certo molti periranno davvero in questo processo, questo non lo si può negare, perché chi nega a se stesso il cambiamento, il movimento dell'universo gli imporrà comunque la trasformazione, la trasformazione definitiva in realtà è la morte. Ma la morte è un altro tipo di vita e se non facciamo attenzione, dicono le tradizioni antiche, la morte ci metterà davanti alle stesse sfide che non abbiamo superato da vivi e quello che non hai fatto da vivo ti toccherà farlo da morto. Elementare, vero? Tutta la conoscenza che sta emergendo dagli autentici custodi della tradizione è fatta apposta per farci restare vivi su questo pianeta e in questa transizione, perché ci si muova, perché si cambi. Chi lo farà? Viverà questa fase come un periodo d'oro, manifestando veri e propri miracoli nel campo della guarigione, della trasformazione, cose che erano impossibili sotto il precedente schema energetico. E chi si nega questo cambiamento dovrà solo trasformarsi in lo stesso. Le sue strutture cadranno in un modo o nell'altro ed è questa l'uscita di scena del quinto sole. Questo moto dell'universo è inevitabile, per cui la cosa migliore da fare è assecondarlo, adattarci, altrimenti dovremmo subirne le conseguenze. Ora, sul piano climatico, l'attività solare è in aumento. Dicono i guardiani maia, e di questo la mia tradizione non parla perché noi siamo più lontani dalla costa, dicono i guardiani maia che è accaduto tante volte questo. Le nostre piramidi dicono sono andate sott'acqua e poi riemerse, tante volte. Ciò che dicono è molto diverso dalla storia ufficiale. Dal punto di vista logico, usciamo da un periodo di minore attività solare che potremmo considerare come una specie di notte. Quando spunta l'aurora c'è più luce, se c'è più luce c'è più calore, se c'è più calore i poli si sciolgono. C'è il riscaldamento globale, ci sono dei cambiamenti climatici, ma questo non significa la scomparsa delle specie. Significa un adattamento a un nuovo stile di vita che, come ho detto, passa dal cane alla scimmia. E le regole saranno dettate dalla natura e a noi toccherà seguirle. Ma questo può essere una grande festa per il mondo che ci porterà a recuperare l'equilibrio fra uomo e natura. torneremo a quella comunione, a quella condizione sacra. I cambiamenti, per chi saprà vederli, saranno stupefacenti, ma chi non vorrà adattarsi otterrà, come dire, la sua giustizia e in ogni caso dovrà trasformarsi. Lo farà da morto, ma lo dovrà fare. Insomma, c'è intanto molto da fare. Nel frattempo pulire le ombre, rinnovarsi, tornare a stabilire il sacro contatto con la natura, senza contare che l'umanità ha trascurato completamente il sogno, che pure è il creatore della realtà. E possiamo incominciare a coltivare l'abilità del maestro del sogno e far sì di arrivare al livello di un Quetzalcoatl e a tutta la conoscenza estremamente sofisticata di un Quetzalcoatl. Allora, per me, vivere questo tempo, invece che fonte di grande paura, è vivere la grande sfida, la grande sfida personale e trovarmi in un periodo in cui sono accessibili le informazioni per potermi trasformare, cosa che prima non era. Però rimane una decisione personale. In realtà, il sole, come dice la nostra tradizione in un modo bellissimo, ha due aspetti, due varianti. Il Quetzalcoatl tonatiu, cioè il sole del Quetzalcoatl, che dà calore, conoscenza, luce, trasformazione, e il Tezcatlipoca tonatiu, cioè il sole che causa la siccità, i venti, gli uragani, il quale certo riscalda la crosta terrestre, che causa i terremoti e che causa anche i cataclismi personali. Ripeto, si tratta di una decisione personale, quella di dove stare, se nel Quetzalcoatl tonatiu o nel Tezcatlipoca tonatiu. La decisione è vostra e questo è il momento di procedere.